Musica Telespettatori marchigiani, buonasera. Apriamo questa nostra edizione della telegiornale con i risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative che, come noto, nelle Marche hanno coinvolto tre comuni, compreso il capoluogo di Regione. In linea di massima nessuna sorpresa è la conferma dei sindaci uscenti. Nettissima l'affermazione ad Ancona di Valeria Mancinelli che guadagna oltre il 62% dei consensi, distanziando ampiamente il suo sfidante Stefano Tombolini del centrodestra che si ferma al 37,2%, oltre 8.500 voti di differenza con un dato però drammatico da rimarcare, quello dell'astenzionismo visto che si sono presentati ai seggi soltanto il 42,6%. degli aventi diritto. Puntiamo a completare i 5-6 progetti strategici per la città, subito dichiarato la Mancinelli, che confermerà ai loro posti per larghissima parte i componenti della giunta uscente. Successo invece al fotofinish a Falconara per l'ex vice sindaco Stefania Signorini, candidata delle liste civiche, che ha la meglio per sole 57 preferenze sull'ex assessore regionale Marco Lucchetti, un risultato che è stato in bilico sino allo spoglio delle ultime schede. Si prosegue quindi sulla strada tracciata per dieci anni da Goffredo Brandoni, primo cittadino falconarese uscente. Conferma anche a Porto Sant'Elpidio, dove si è imposto Nazareno Franchellucci centrosinistra con il 52,2%, avendola meglio su Giorgio Marco Tulli per circa 500 voti. Ed ora parliamo di cronaca, andando subito a vedere le spettacolari immagini del salvataggio di un escursionista in difficoltà ieri sul Monte Vettore, provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco. Il servizio. Approfittando della prima domenica d'estate, due escursionisti del maceratese, moglie e marito, stavano passeggiando a Forca di Presta, nel comune di Arquata del Tronto, lungo il sentiero che riscende dal rifugio Zilioli sul Monte Vettore. Ad oltre 2000 metri di altitudine. Ad un certo punto però la donna è scivolata, riportando una serie di traumi che gli impedivano qualsiasi movimento in una zona, tra l'altro particolarmente impervia, per cui non rimaneva altro che chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra via terra e con un elicottero Drago 54, partito da Pescara. La cinquantenne, comunque sempre cosciente, è stata stabilizzata su una barella e verricellata sull'elicottero, che poi l'ha trasportata in una radura vicina, dove è stata trasferita sull'eliambulanza Icaro, che l'ha trasportata all'ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. E stenta a prendere quota l'estate. Nella tarda mattinata di oggi, nubi fragi e trombe d'aria hanno colpito il nord della regione, in particolare la zona tra Rimini e Fano, senza comunque colpire i centri abitati. Le condizioni meteo poi sono gradualmente migliorate. Nel tardo pomeriggio da domani dovrebbe tornare a splendere il sole. Incidente stradale tra Via Madonna di Loretto e Via Fratti a Pesaro, per cause ancora al baglio della polizia stradale all'incrocio, si sono violentemente scontrati un furgone ed una moto, ad avere la peggio il centauro, che è stato portato in condizioni definite abbastanza serie all'ospedale San Salvatore di Pesaro. Cambiamo argomento. Grande festa sabato in Piazza della Libertà Macerata, per l'ormai tradizionale appuntamento organizzato dall'Università con la giornata del laureato, che ha consentito a tanti ex studenti dell'Ateneo di ritrovarsi in una sorta di gioioso happening. Sentiamo il Rettore Francesco Adornato. Rettore, questo è uno dei momenti che contraddistingue l'Università di Macerata nella piazza della città, con tanti protagonisti di ieri, di oggi, ma direi anche di domani. Non c'è dubbio, è per noi un momento emozionante, è una cerimonia che si ripete, anche un rito, però sia le cerimonie che i riti hanno un significato, un significato legato all'appartenenza di ciò che siamo stati, del nostro presente e del legame che c'è tra il passato e il futuro. Noi come Università contiamo molto sull'empatia che riusciamo a stabilire con quelli che sono stati i nostri studenti e quello che è il nostro presente, perché pensiamo che crediamo molto nella memoria del futuro. sembra uno simoro, la memoria del futuro, però la memoria ha qualcosa che riporta immediatamente lo sguardo in avanti, come se il futuro avesse lasciato, buttato lì nella memoria le tracce per poterlo trovare, per poter disegnare il nostro percorso. Molti di loro non ricordano il giorno della laurea, tutti però ricordano il periodo che li ha portati a quella festa e allora davvero c'è qualcosa di importante in queste radici? Penso è vero, è vero questo, che ognuno di noi da studente ricorda tutto il tempo che ha vissuto da studente, tutto quel periodo, quella stagione, le amicizie, gli innamoramenti, gli studi, le letture particolari. Credo che sia un momento incancellabile nella vita di ognuno di noi e che quelle emozioni nel passare del tempo non scoloriscano ma diventino parte integrante del battito del cuore, secondo me. Ludovico Scortichini, amministratore di Go World SRL di Ancona, è il nuovo presidente del gruppo turismo di Confindustria Marche Nord che riunisce le imprese turistiche delle province di Ancona e Pesaro Urbino e nel prossimo quadriennio sarà affiancato dalla vicepresidente Aida Bordoni, titolare dell'hotel San Susi di Gabice Mare. Il neopresidente ha affermato di voler dedicare particolare impegno alla soluzione delle problematiche di un gruppo che per le molteplicità di attività che lo compongono ha bisogno di attenzioni mirate alla gestione di dimensioni e stagionalità estremamente differenti. E Re Canati si prepara alla riapertura del suo storico palazzo municipale a nemmeno due anni di distanza dal terremoto. Venerdì, tra l'altro, una giornata particolarmente intensa. Ce ne parla nel suo servizio Manolita Scocco. Si è tenuta nell'originaria sede municipale di Re Canati la conferenza stampa di presentazione dei lavori di messa in sicurezza statica e di restauro realizzati nel Palazzo Comunale danneggiato dopo gli eventi sismici 2016. Per la conferenza è stata scelta una settimana esatta dal 29 giugno, data simbolica e significativa che nel 1898 festeggiò il centenario della nascita di Giacomo Leopardi inaugurando proprio il Palazzo Comunale, un gigante da 120.000 metri quadri di superficie e che in alcuni punti raggiunge i 36 metri di altezza. Re Canati beneficerà anche di un finanziamento di 16 milioni di euro come comune riconosciuto all'interno del cratere, priorità infatti agli edifici comunali e alle scuole, che sarà oggetto di un bando di progettazione per i prossimi anni. Venerdì quindi, nel pomeriggio, la consegna del premio Leopardi a Gennaro Savarese ed in serata in piazza il recital di Gabriele Labia, prima dello spettacolo pirotecnico. Sentiamo il sindaco Francesco Fiordomo. Il 29 giugno riapre il Palazzo Comunale, siamo veramente contenti perché a meno di due anni dal terribile momento del terremoto siamo riusciti a rimettere in piedi il gigante. Lo abbiamo fatto con le nostre forze, con i fondi del comune che ha riscosso la polizza assicurativa che aveva stipulato per le calamità naturali. Lo abbiamo fatto con i nostri uffici, con il nostro personale, con ditte del territorio e finalmente torna a battere il cuore della città. Siamo contenti perché il 29 giugno è una data simbolica. 120 anni dopo, quel 29 giugno del 1898, quando fu inaugurato il Palazzo Comunale in occasione del primo centenario, noi riabbracceremo i comuni amici, i comuni che più di un secolo fa aiutarono, recanati nella costruzione di questo maestoso edificio. Quindi sarà un momento di amicizia, un momento per rinnovare la collaborazione e per festeggiare come città di Recanati un importante traguardo che abbiamo raggiunto davvero in tempi record, grazie alla forza di volontà, all'impegno, alla perizia, non solo dell'amministrazione, ma di tutta la struttura, delle ditte di coloro che veramente hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo. Ed apriamo ora la pagina sportiva con il calcio, situazione sempre tesa da Ascoli dove dopo la lottura delle trattative con la Bricofer Italia, il patron Francesco Bellini e sua moglie Marisa sono ripartiti per il Canada, lasciando il solo direttore sportivo Giaretta a condurre la società che resta comunque in vendita. In panchina, anche se il condizionale è d'obbligo, dovrebbe restare Serze e Cosmi almeno perché ha un altro anno di contratto, mentre la costruzione della nuova squadra in alto mare polemiche feroci nel frattempo sia con l'amministrazione comunale sia con i tifosi, per cui si può dire che ormai la rottura è completa. Vanno un po' meglio le cose a San Benedetto dove il neotecnico Beppe Maggi e il DS Lamazza iniziano il loro lavoro senza grandi proclami, ma comunque con buone ambizioni. Le stesse che in Serie D avrà il Matelica, che sabato ha presentato il DS Micciola nel corso di una conferenza stampa con il confermato Mr. Tiozzo ed ovviamente il Presidente Mauro Canil che ha intervistato per noi Sara Santacchi, ovviamente anche parlando della mancata per ora partnership con Macerata. Sentiamo. Presidente Mauro Canil inizia il nono anno con la sua presidenza al Matelica, il sesto anno consecutivo in Serie D. Non manca la voglia di fare bene come sempre? Sicuramente non manca la voglia perché ormai siamo abituati a fare molto bene, l'intenzione è proprio di quella di continuare a fare molto bene come abbiamo fatto, credo che abbiamo fatto negli ultimi anni. Io credo che Matelica in Serie D, ripeto, possa dire che ha raggiunto il massimo del massimo che possa raggiungere la nostra bellissima città nel mondo del calcio perché oltre alla Serie D purtroppo non abbiamo le strutture per poter fare. Io non sono nemmeno d'accordo di dire che dobbiamo chiedere all'amministrazione comunale di spendere una quantità di denaro esorbitante per adeguare lo stadio perché non sarebbe corretto farlo. Quindi io penso che il comune piuttosto che spendere un milione di euro per adeguare lo stadio sia giusto che quelle risorse le dedichi magari a servizi e a quello che serve veramente alla città. Mentre la stessa cosa può essere portata avanti attraverso un progetto diverso, un progetto che qui avevamo iniziato qualche giorno fa che purtroppo per motivi non dipendenti da noi non è stato possibile portare avanti, ma spero che questo progetto sia solo rimandato nel futuro perché il progetto era proprio quello di ampliare la visione non soltanto da materica ma in tutta la provincia e non solo attraverso un grande lavoro con il settore giovanile e con i ragazzi del nostro territorio e quindi lì poter partire a fare delle selezioni in un certo tipo, magari in una città importante come Macerata che purtroppo oggi il calcio è veramente ridotto ai minimi termini e credo che Macerata meriti tanto ma spero che questo progetto, ripeto non voglio dirlo un'altra volta ancora, ma spero che sia solo rimandato al futuro. L'Alma Juventus Fano annuncia che nella giornata odierna è stato raggiunto l'accordo con Simone Bernardini che ricoprirà il ruolo di direttore generale della società per la prossima stagione nell'augurare si legge in una nota un proficuo lavoro al nuovo direttore e si rende noto che nei prossimi giorni si andrà a delineare il nuovo assetto societario inoltre il club comunica che entro i termini stabiliti verrà formalizzata la domanda di iscrizione al campionato di Serie C La notizia che era ormai nell'area a quasi crismi dell'ufficialità dopo 36 anni si ferma la storia del Re Canati Basket il patron Giuseppe Pierini si recherà mercoledì dal notaio per la cessione del titolo sportivo della Serie B al Teate Chieti, società abruzzese alla quale approda anche il general manager Michele Paoletti il dirigente portore canatese dopo 11 stagioni di impegni e 4 campionati di Serie A 2 non se la sente di proseguire da solo e stavolta al suo grido d'allarme già lanciato da diverso tempo ha fatto seguito questa decisione che ironia della sorta arriva proprio quando si stavano per iniziare i lavori e si stanno per iniziare i lavori di ampliamento del Palacingolani che sarà presto portato alla capienza di 2000 posti nella città leopardiana resta la pallacanessa Re Canati che si iscriverà regolarmente alla C-Silver oltre ovviamente al florido settore giovanile con questo è tutto per il nostro telegiornale grazie per la cortesa attenzione a domani